Eccoci a fare la pasta fatta in casa. Ci sono milioni di ricette, una più buona dell'altra. La mia ricetta è molto semplice, quindi solo semola e acqua. Attenzione, semola, non semola rimacinata. Sarà una ricetta priva di ogni tipo di attrezzatura, di ogni tipo di trafila. Altro che trafila al bronzo, qua la trafila sono le mani. Quindi non guarderemo tanto quanto viene bella la pasta, ma quanto viene buona. È chiaro che senza impastatrice è più facile usare la semola rimacinata, ma con la semola, quella normale, più granulosa, la pasta, secondo me, viene più buona. È proprio quella adatta a fare la pasta. Bisognerà semplicemente stancarsi un goccio di più. Farò un esperimento, comincerò ad aggiungere il meno acqua possibile per arrivare poi alla quantità, diciamo, ottimale per lavorarla, diciamo, in modo agevole. Vi ricordo di iscrivervi al canale e adesso incominciamo. Ecco qua, come vedete questa è la semola granulosa, più di quella rimacinata. Comincio ad aggiungere metà dell'acqua, cioè 125 millilitri e a impastare non è facile. Comunque ho deciso di fare tutto senza impastatrice e ho constatato che la proporzione ideale è aggiungere tutta l'acqua, cioè i 250 millilitri. Magari un goccio di meno, però viene più facilmente lavorabile, quindi inutile stancarsi. Verrà una pasta buonissima. Adesso accelero il video. Intanto la facciamo riposare un attimino, se volete, ma comunque non c'è il lievito. Bene, la stendiamo e adesso ci divertiamo a preparare dei tagli di pasta. Così, facendo più o meno, tagliando in questo modo, possiamo fare spaghetti, vermicelli, chiamateli un po' come volete. Poi la perfezione, lo spessore, dipenderà molto dalla vostra pazienza. Comunque li potete fare sul tavolo o anche direttamente così sulle mani. È una pasta che comunque è piuttosto elastica, si lavora molto bene una volta che la semola e l'acqua si sono inglobate. Vedete, anche proprio in questo modo qua potete allungarli. Io comunque non guardo troppo la forma, mi interessa il gusto. Adesso la stendiamo col mattarello a lo spessore di circa un millimetro e facciamo un altro taglio di pasta. Ecco, chiaramente se avete l'impastatore, la macchina per fare la sfoglia è molto meglio perché fate due o tre strati, la sovrapponete e viene più buona. Comunque a me va bene così. Io ce l'ho la macchina ma non ho voglia di usarla. Bene, adesso ritaglio dei rettangoli, ho preso la misura perché userò le canne di acciaio che ho usato per i cannoli per fare i paccheri, paccheri, tortiglioni, chiamateli un po' come volete. Però questi qua vanno messi subito in sul gelatore e poi dopo li toglieremo dalle canne, altrimenti non mantengono la forma. Se avete voglia con uno stuzzicadenti potete anche divertirvi a fare i paccheri rigati. Io ne ho fatto qualcuno liscio e qualcuno rigato. Vedete non serve neanche acqua per chiudere perché comunque la pasta è piuttosto umida. Adesso vi faccio vedere da vicino. Non so se si vedono le righe. Diciamo che ho farina d'appertutto, eccole qua. Diciamo che ho farina d'appertutto quindi non è molto facile. Adesso vediamo un po' ci inventiamo un altro taglio. Ma lì potete fare un po' quello che volete. Fate dei rettangoli grossi e fate le lasagne. Potete fare i maltagliati che fate ancora prima. Tutto senza diciamo con l'aiuto di un coltello e basta. Arrotolando facciamo tagliatelli o tagliolini o pappardelli a seconda della spessore. Ricordatevi di mettere la pasta larga perché altrimenti vi viene una coltiglia. Soprattutto se la volete congelare non vi consiglio di essiccarla perché comunque non secca uniformemente. Non siamo un'industria. siamo a casa. Quindi accontentiamoci di quello che possiamo fare. Io non essico mai la pasta a casa. Adesso possiamo fare, io faccio i tagli che mi piacciono chiaramente. Faccio così dei rettangolini in questo modo qua e faccio delle farfalle. Adesso vedete uso solo il coltello non uso neanche la rotella per dare insomma quella forma alle farfalle perché proprio mi piace così la pasta rustica fatta in casa. Però sono gusti diciamo. Adesso facciamo l'ultimo taglio di pasta che faccio sono le orecchiette. Vedete in questo modo qua proprio sono facili da fare. Faccio delle strisce come quando faccio gli gnocchi e poi col coltello vedete schiaccio e le regiro su se stesse sul pollice che vengono le orecchiette. Acqua e farina. Acqua e semola scusate non è farina. Ho fatto un video in cui parlo della differenza tra farina e semola e poi sbaglio io a chiamarle. Adesso vi faccio vedere i paccheri che sono stati una mezz'oretta sul gelatore quindi li possiamo estrarre. Vedete ormai mantengono la forma e li mettiamo in un sacchetto per congelarli poi li useremo quando ci servono. Adesso il video è praticamente finito io mi faccio una chiamiamola spaghettata con la passata di pomodoro fatta in casa da me ricetta sul canale. Vi lascio il link. Vi ricordo di iscrivervi al canale e vi consiglio di provare a fare la pasta con la semola invece che con la semola rimacinata rimarrete estremamente soddisfatti. Dulcis in fundo non ho fatto il video ma vi lascio la foto i paccheri con zucchina e formaggio rockefort quindi tipo gorgonzola ma fatto con di piccola. Formaggio rockefort fatto in casa da me ricetta sul canale. Alla prossima.